Oltre 30.000 pezzi high-tech contraffatti come lettori portatili DVD, iPod, lettori multimediali e componenti hardware per console sono stati sequestrati a Taranto da guardia di finanza e agenzia delle dogane. La merce si trovava sul fondo di un container nascosta dietro merce originale. Proveniva dalla Cina ed era destinata in Slovenia e stata individuata dallo scanner durante la procedura per la valutazione di rischio alla quale sono sottoposti tutti i container che transitano nello scalo ionico senza obbligo di ispezione. Oltre mezzo milione di euro è il valore della merce sequestrata. Fondamentale la collaborazione dei consorsi per il rilascio dei brevetti poiché si tratta di contraffazione industriale. Faccio un esempio qui su una confezione di un accessorio per console Wii. La doppia i viene sostituita da una U sulla quale viene apposta una dieresi e la particolarità è che il prodotto viene pubblicizzato come compatibile per la console, quindi senza voler dire che è marchiato Wii ma che è idoneo per quelle console. I prodotti sequestrati erano destinati al circuito ufficiale pronti per essere rivenduti in negozi specializzati.